La pioggia non ferma gli organizzatori, tutto confermato per TFT Rosso Relativo e più grande show italiano che celebra Tiziano Ferro. Uno spettacolo dal taglio teatrale a metà strada tra il musical e il concerto, appuntamento per questa sera alle 22.30 a Sulmona nella centralissima piazza 20 Settembre. Fra poco si alterneranno le mascotte in centro storico per dare anche un tocco di colore all'ultimo sabato di agosto, per via delle avverse condizioni atmosferiche salta la cena in piazza che raccura del Gran Caffè Letterario in collaborazione con i Sestiere di Porta Vanaresca e il Borgo Pacentrano. L'idea del tributo di Tiziano Ferro è di Fabrizio Urbani che scrive lo spettacolo per omaggiare il cantante di Latina, tra i suoi artisti preferiti. L'atmosfera magica dei suoi concerti viene riproposta secondo il criterio che differenzia il classico spettacolo dalle band, la qualità e quindi la tipologia dello show. A portare l'artista Sulmona è stata l'associazione DreamOn preseduta da Manuel Di Camillo.